Subito dopo aver fatto il diploma avevo due foglie in mano da una parte il diploma e dall'altra un contratto di lavoro. Dopo una settimana che ho terminato il diploma ho iniziato a lavorare. Arriva anche a D'Arezzo l'opportunità post diploma che ha il più alto indice di occupazione in Italia, un'opportunità nel settore dell'energia e dell'ambiente. Le aziende co-progettono dei corsi che fanno fare per due anni ragazzi usciti dai studi tecnici e dai licei e che faranno esperienze laboratoriali importanti a braccetto con manager e dirigenti delle aziende dove prevedibilmente potrebbero trovare occupazione. Quindi l'invito che faccio alle famiglie aretine di guardare a questo istituto tecnico superiore che non è un quinquennio, è un biennio post diploma riconosciuto a livello europeo come titolo scolastico che darà una reale opportunità. Eco Energy Tech e Net Energy Tech, i due corsi di alta formazione post diploma che preparano tecnici altamente specializzati per aziende dei settori energia e ambiente che operano a D'Arezzo e nelle altre province della Toscana. Un'offerta resa disponibile dai TS Energia e Ambiente. alla Casa dell'Energia saranno disponibili tutte le informazioni su opportunità ed iscrizioni. Con Finindustria siamo impegnati molto a fare questa forte sinergia tra l'ITS Energia e il territorio di Arezzo portando oggi, le presentiamo qui, i corsi direttamente ad Arezzo. Arezzo deve sfruttare questa occasione, è una comunità che ha un grosso portato tecnologico e industriale ha bisogno che in questa città vengano create occasioni formative per i giovani. Oggi con questi corsi abbiamo la possibilità nella città di formare dei giovani nelle materie dell'energia in una visione dell'industria 4.0, quindi in una visione moderna ed avanzata e prepararli per un futuro professionale. Grazie a tutti.